Salvo ben fatto, a quartiere della CR Messina, la Beretti finalmente conquista un punto, come ti senti? Abbiamo giocato tutti benissimo, anche il mister, ci siamo aiutati tutti a vicenda e questo sta a significare che con il lavoro e metterci sotto riusciamo a fare risultato. La squadra era andata un po' sotto tono nel primo tempo, subendo l'1-0, però poi ci siamo ripresi bene pareggiando la partita. Questo sta a significare che con il lavoro del mister Giordano, anche con i preparatori, il mister Greco e il mister Panarello si possono ottenere dei risultati. Certo il punto è caro a noi perché volevamo vincere, però un pareggio è sempre buono. Certo noi ritroviamo da tre sconfitte consecutive e questo da questo punto da morare alla squadra e soprattutto a noi per rialzarci e continuare sempre sulla retta via.